ecco dillo ai figli spirituali specialmente se sacerdoti quindi cleonice morcaldi dice a mia mamma dillo ai figli spirituali specialmente se sacerdoti dall'america sono già giunte giunti in vaticano ti mando l'ultimo pezzo del velo poggiato nel volto del padre cleonice baci e adesso voglio leggere una lettera di luigi gaspari delle sue opere una lettera la scrive il 25 luglio 1965 a cesenatico carissimi roberto elena sono andato dal padre insieme all'amico pagno sin anche se non mi sono potuto confessare sono felicissimo di averlo rivisto il 14 agosto dovrei partire per l'ungheria per essere di ritorno 22 agosto ho molto desiderio di rivedervi e raccontarvi tante cose per ora mi unirò a voi spiritualmente grazie a dio le persone che ci sono più care si possono portare sempre con noi ed io sento veramente per lo spirito non ci sono distanze infatti cosa sarebbe la nostra vita se nei momenti di aridità non avessimo il potere di sentire solidarietà dei nostri affetti più cari e le gioie se la felicità non potessimo donarla a chi può riceverla non credo si vivrebbe in perenne tristezza perciò ringraziamo dio dei beni che ci dona perché essi possiamo donare e donarci sono tornato da san giovanni rotondo con la gioia della mia gioia vi ho reso partecipi in unione al nostro grande padre padre pio chiede preghiere perché dice il calice è ormai colmo 25 luglio 65 era già colmo nel 65 e quindi siccome siamo nel 2024 le cose dovrebbero cambiare sono cambiate in peggio mamma mia se il calice era colmo nel 65 pensate adesso datemi notizie a bologna io vi scriverò presto vi ricordo sempre vi abbraccio vostro luigi probabilmente stava parlando pagno si che era che era stato aveva accompagnato appunto era l'amico di luigi gasperi pagno si era il finanziatore dell'opera il calvario di padre pio grande difensore del padre all'epoca delle persecuzioni di cui padre pio fu oggetto ecco adesso voglio leggervi dal padre pio profeta dell'era dell'amore don dolindo di luigi gasperi nel dottor gasperi una un tratto ecco di cosa racconta lui delle volte che andava da padre pio e padre pio gli diceva un'altra volta padre pio vuole aiutarmi a non dare troppa confidenza ad un ricco avaro senza figli che faceva l'amico per servirsi di alcune mie altolocate amicizie nel salotto del convento stava padre pio seduto accanto a me e all'avaro e altra gente padre pio rivolto all'avaro gli chiese gli chiede tu come ti chiami l'avaro risponde mi chiamo x bene dice padre pio quando sarai morto sulla tua lapide scriveranno qui giace g.d che sempre fece la moltiplicazione e mai la sottrazione adesso i nipoti fanno la divisione padre pio mi disse quelli che hanno veramente i doni di dio non lo sanno e non lo dicono un giorno alcuni conoscenti mi volevano far conoscere un frate molto ammalato che si diceva molto illuminato da dio io allora chiese a padre pio conferma padre pio rispose dita x che faccia l'amalato e non l'illuminato in ogni risposta di padre pio appariva solo e sempre il suo grande amore alla verità e al disprezio per ogni menzogna e dio chiese a padre pio come può fare un uomo che non ha il dono nel discernimento degli spiriti a distinguere ciò che è vero da ciò che è falso padre pio rispose è necessaria molta umiltà e costante amore alla verità e poi dio farà luce alla verità e smaschererà la falsità ecco padre pio profeta dell'era dell'amore il dottor luigi gaspari poi volevo leggervi due righe del quaderno dell'amore libricino descritto nel decimo capitolo dell'apocalisse che padre pio disse a luigi gaspari il dottor luigi gaspari che doveva scrivere questo libricino che sarebbe stato la salvezza del mondo e della chiesa ecco cosa dice il signore in ombra lascio ogni falso e malizioso attentato alla verità l'ombra assenza di energia assenza di forza vitale ed è cadimento e morte sicura tutto ciò che vive che vivrà è solo tutto quello che riceve calore dai miei raggi di luce tutto ciò che io lascio in ombra muore e nella verità colui che impegna tutto se stesso nel volere capire e attuare un programma di maggiore conoscenza del vero e l'umile ricerca dentro di voi che vi porterà a scoprirvi incapace di crearvi una vostra verità la verità che un uomo si è creata e vuole imporre agli altri uomini e in posizione di sola menzogna colui che cerca una verità da imporre come dominio sugli altri uomini impone se stesso non la verità la verità mia lascia libera anche la menzogna la menzogna fa chiasso fa violenza strepita perché ha paura del potere della verità ecco dal quaderno dell'amore del dottor luigi gaspari infine dal mio libro padre pio il terzo segreto di fatima un tratto del libro del libro dell'apocalisse di don dolindo ruotolo che dice pagina 296 dice il periodo della predicazione che sarà di preparare al regno di dio al trionfo della chiesa in terra culminerà in un libro aperto e non sigillato perché in esso incominceranno a decifrarsi i misteri del regno di dio questo nel libricino descritto nel decimo capitolo dell'apocalisse sia per una maggior precisazione e chiarezza nell'insegnamento dei dogmi della chiesa sia per la spiegazione più chiara dei misteri nascosti nella sacra scrittura che è in tutto il suo complesso mirabile il libro dei misteri di dio libro grande per i piccoli uomini della terra ma piccolissimo nelle mani dell'angelo innanzi al cui luminoso intelletto i misteri del regno di dio sono grandiosamente illuminati e chiari nell'immenso libro aperto della divina gloria libro dolce amaro e alla bocca e amaro al ventre perché nel gustarlo ha mille segreti di sorprese dolcissime di verità ma nell'applicarlo alla vita produce necessariamente una lotta tra spirito e carne tra l'uomo spirituale e materiale questo libro piccolo piccolo anche innanzi al mondo che apprezza suo solo le sue interminabili serie di volumoni più o meno asfissianti resodocissimo dell'anime e codice di vita spirituale contrastante con quell'animale sarà la base della predicazione della verità leggenti ai popoli e i re e produrrà tale rinovellamento nella vita cristiana sarà questo il principio del regno del signore e il mio libro padre pio il terzo segreto di fatima potete trovare richiede su amazzo online se lo richiedete vi arriva anche il giorno dopo quindi editore il segno con la collaborazione luca serafini e daniele gallo per quanto riguarda il quaderno dell'amore potete padre pio profeta dell'era dell'amore del libro che vi ho fatto vedere il dottor gaspari le opere le lettere di padre pio una lettera che ho letto prima troverete due volumi delle lettere di padre pio padre pio e l'islam padre pio mi ha detto tutte le sue conferenze che poi potete trovarle audio sullo stesso mio canale questo canale nella community ci sono diverse conferenze audio del dottor luigi gaspari tenuto in tutto il mondo capirete dalla sua voce e dallo stesso libricino che veramente quest'uomo era illuminato dallo spirito santo e aveva lo spirito di san giovanni che non è mai morto vedete l'ultimo paragrafo del vangelo di san giovanni gesù dice a pietro parlando di giovanni se voglio che gli viva finché ritorni che importa a te tu segui si sparse tra i discepoli la voce che quell'apostolo non sarebbe morto ma non disse che non sarebbe morto se voglio che gli viva fino al mio ritorno che importa a te tu segui il dottor gaspari aveva lo spirito di san giovanni l'evangelista ecco perché padre pio gli ha detto che avrebbe dovuto scrivere questo libricino per la salvezza del mondo e della chiesa mentre padre pio aveva lo spirito di elia e di giovanni il battista gesù dice ai suoi discepoli è vero verrà elia e ristabilirà ogni cosa ma in verità vi dico elia è già venuto e voi non l'avete riconosciuto compresero allora che parlava di giovanni il battista ma gesù dice due cose verrà elia perché era il futuro ed era già venuto perché era giovanni il battista e nel libro dell'apocalisse è scritto che elia sarebbe ritornato alla fine dei tempi ed ecco che padre pio aveva lo spirito di elia e di giovanni il battista per quanto riguarda il quaderno dell'amore potete richiederlo con un messaggio whatsapp solo scritto perché non vi risponde nessuno quindi voi farete una richiesta scritta il quaderno dell'amore padre pio profeta tutte le opere di luigi gaspari se volete e le potete appunto richiedere con un messaggio scritto vi sarà spedito a casa tutto il materiale con un bollettino postale voi farete un'offerta libera al 371 39 56 034 ecco oggi nella festa appunto di padre pio che ci benedica ci aiuti in questi momenti che sono veramente terribili un abbraccio a tutti buona giornata a tutti